Mi chiamo Irene, ho 25 anni e sono un'attivista. Per me attivismo significa trasformare degli stati d'animo fortemente appunto astratti come possono essere la rabbia, l'indignazione, ma anche i positivi come l'entusiasmo in azioni concrete che possono produrre un cambiamento reale a beneficio di tutti e tutte. Grazie ad ActionAid ho avuto modo di approcciarmi anzitutto alle tematiche legate all'uguaglianza di genere attraverso una lente transfeminista. Tra gli obiettivi che ci siamo prefigurati come attivisti e attiviste è sicuramente quello di sensibilizzare su il valore aggiunto che produce l'attivismo, su cosa vuol dire attivismo e anche su argomenti che in questo momento vengono o tralasciati o strumentalizzati dalla politica, vale a dire la garanzia di un salario minimo con un lavoro dignitoso soprattutto per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro, un'area presa in carico delle questioni climatiche e ambientali senza trascurare, anzi mettendo al centro uno sguardo che sia sempre femminista e intersezionale.